Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 184esima puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi come sempre le principali notizie dal mondo del software libero open source della settimana appena trascorsa. Anche questa, se mi seguite già su YouTube, come potete vedere, è una puntata video, quindi oltre alla mia sua idente voce trovate anche le pagine del blog in sottofondo in modo da poter ascoltare e guardare le varie notizie che di volta in volta vado a commentare. È una maniera migliore per poter seguire il blog, per poter seguire il podcast e molti di voi la stanno apprezzando. Sto vedendo però che molti di voi però che seguono il canale YouTube di Marcos Box non sono iscritti al canale, quindi vi invito, qualora non l'avesse già fatto, a iscrivervi al canale YouTube di Marcos Box mettere mi piace, condividere gli articoli, condividere i video e quant'altro. Quindi facciamo crescere questo canale perché ne ha bisogno di tanto affetto e ci conto, spero di riuscire ad arrivare a meno a 2000 iscritti entro la fine del mese di luglio. Ce la possiamo fare, siamo già a 1100, quindi siamo sulla buona strada. Se mi aiutate possiamo crescere assieme e diffondere il verbo del software libero open source. Ma apriamo questa puntata che anche questa puntata è una puntata piccolina ma ricca di articoli interessanti. E iniziamo con il primo articolo che è stato pubblicato da Luca. Luca ha installato .24.04 e si è accorto di un piccolo bug che è presente sulla distribuzione, ovvero che manca l'utility di GNOME per la decompressione dei file zippati. Che cosa succede? Succede che nella precedente versione l'azione del doppio clic apriva il file zippato permettente all'utente di vederne il contenuto e poi decidere di da farsi. Adesso invece si va all'estrazione diretta. C'è da dire che questo comportamento di default lo troviamo anche su altre distribuzioni che utilizzano GNOME che non vanno a personalizzare questa opzione. Quindi diciamo così è un problema noto tra virgolette di GNOME. Però possiamo porre rimedio a questa cosa andando a installare il pacchetto file roller e impostandolo. Come potete vedere qui basterà cliccare su un file zippato con il tasto destro e andare a specificare di utilizzare file roller per l'apertura dei file in formato zip. Quindi così si bypassa il problema. È un problema che onestamente non me ne ho accorto perché non mi è capitato ultimamente di gestire file zippati. Devo essere sincero. Adesso vado subito ad aggiungere questa cosa all'interno della guida post-installazione. Luca tra l'altro ha anche segnalato il bug su Launchpad. Quindi dovrebbe poter essere corretto a monte da parte di Ubuntu se si accorgono che è cosa buona e giusta. E restiamo sempre in tema Ubuntu con una delle derivate più famose, anzi la derivata più famosa di Ubuntu ovvero Linux Mint con le ultime notizie dal fronte di sviluppo di Linux Mint e di Cinnamon. Clement Refeb che è il patron di Linux Mint nonché il principale sviluppatore della distribuzione ogni fine mese realizza un post-mensire con un recap sullo sviluppo della distribuzione, sullo sviluppo di Cinnamon e quant'altro. E questo mese è tornato sull'argomento del mese scorso andando ad approfondire le modifiche che stanno operando per quanto riguarda il software manager. Che cosa avevano, nello scorso mese, di che cosa si era discusso? Si era discusso del fatto, qui possiamo vedere il vecchio articolo, che c'era un problema di sicurezza potrebbe esserci un problema di sicurezza anche per i flat pack non verificati. Al momento soltanto il 25% delle applicazioni in formato flat pack sono state verificate su FlatTab e questa è una cosa che va tenuta in considerazione per chi propina la possibilità di installare applicazioni in formato flat pack direttamente out of the box sulla distro, così come fa Linux Mint perché Linux Mint sapete bene che è molto attenta alla sicurezza degli utenti specie perché molti degli utenti che utilizzano Linux Mint sono anche utenti alle prime arme quindi trovarsi davanti a potenziali problemi di sicurezza gli fa cattiva pubblicità e fa cattiva pubblicità anche al mondo Linux per questa ragione il team di Linux Mint ha deciso di adoperare delle modifiche migliori all'interno del software manager la modifica consiste nel fatto che adesso i flat pack non verificati sono disabilitati per impostazione predefinita un avviso va a spiegare agli utenti quali sono i rischi per la sicurezza di esser associati nelle impostazioni di sistema quindi questa è la schermata che potete vedere qui vi fa vedere mostra applicazioni flat pack non verificate vi dice che non è raccomandato e vi dice perché potrebbe essere pericoso abilitare questa cosa quando poi sono abilitati questi flat pack sono contrassegnati come non verificati quindi qui possiamo vedere ad esempio con il flat pack di Google Chrome che c'è proprio la scritta rossa non verificato e quindi un ulteriore rafforzativo per gli utenti che si trovano a installare applicativi in formato flat pack oltre a questo proprio per cercare di mettere la ciliegina su Quadot ci hanno messo anche un'altra modifica per quanto riguarda gli applicativi flat pack non verificati che adesso non presentano recensioni e non hanno un punteggio quindi vi stanno dicendo da tutte le maniere non li installate spetta poi agli utenti capire questo messaggio ci sono poi altre modifiche che sono state fatte al software manager che vanno nell'ottica dei miglioramenti delle prestazioni adesso a detta del team di Linux Mint il software manager è molto migliorato nel caricamento con una velocità che si carica quasi immediatamente quindi benvenga anche questa modifica lo scorso mese poi avevamo parlato della tematica GTK4 all'interno di Linux Mint e quant'altro bene il team di Linux Mint ci ha detto ci tiene a far sentire questo mese a comunicarci che sono state ascoltate le preoccupazioni espresse da parte degli utenti e quindi adesso stanno cercando di cercare di mediare il tutto stanno anche coinvolgendo gli sviluppatori di GNOME per cercare di trovare la quadra della situazione sebbene non siano ancora emerse decisioni e soluzioni importanti c'è un consenso generale sulle questioni della compatibilità cross desktop e sull'indipendenza del progetto di GNOME per quanto riguarda le X-App quindi stanno cercando di offrire il meglio che possono offrire a livello di compatibilità e stanno anche cercando contemporaneamente di portare avanti il loro progetto delle X-App su tecnologie comuni tra GNOME e appunto loro che utilizzano le X-App quindi stanno cercando in tutte le maniere di venire incontro agli utenti di venire incontro al programmatore e di non forcare troppo la situazione vedremo nel prossimo mese quali saranno le altre novità a riguardo passiamo adesso a una notizia sempre in ambito Ubuntu anzi una guida che ho postato sulle pagine di Marcosbox vi avevo parlato qualche puntata fa di Rhino Linux che è una derivata Rolling Relays di Ubuntu che aveva uno strumento particolare chiamato Packstar che praticamente non è altro che l'AUR per Ubuntu vi avevo accennato che molto probabilmente ci avrei fatto un articolo che spiegava come installare Packstar anche su Ubuntu e l'ho fatto ho postato sul blog una guida che vi spiega come funziona Packstar e come poter installarlo su Ubuntu trovate poi una serie di guide ai comandi in base per l'installazione dei pacchetti la rimozione e quant'altro la sintassi è semplicissima per la gestione di tutto ben venga anche questo sistema ulteriore per poter installare roba su Ubuntu ovviamente anche in questo caso metto sempre le mani avanti Packstar va a scaricare compilare e tutto pacchetti che normalmente non sono presenti nei repository della distribuzione e questo potrebbe essere però un rischio per la sicurezza per quanto riguarda gli utenti quindi quando installate roba al di fuori dai repository della distro dai repository ufficiali state sempre con gli occhi attenti è un consiglio che lo danno anche anche gli utenti che utilizzano Arch Linux di installare soltanto roba dai repository gli consigliano spesso di andare a prendere roba da Aure e anche in questo caso con Packstar visto che il concetto è lo stesso mi sento in dovere di mettervi un discrammler quindi state attenti sempre passiamo adesso a una notizia riguardante Proton Proton lo sapete è un provider di servizi incentrati sulla privacy adesso ha annunciato finalmente la disponibilità della versione per Linux e per macOS di Proton Pass il suo password manager quindi adesso completa il suo il suo piano di applicazioni lo troviamo praticamente per tutte quante le piattaforme e quindi adesso possiamo installare nativamente su Debian Red Hat quindi Ubuntu Fedora CentOS e quant'altro quindi installazione facilitata del Proton Pass apro e chiudo una parentesi io sto cercando negli ultimi periodi di documentarmi sulla situazione deguglalizzazione devo dire vabbè ci siamo capiti abbandonare i servizi di Google perché lo sto facendo perché mi sto documentando mi sto documentando perché sto vedendo che sia da parte mia col tempo con gli anni che da parte di diversi utenti all'ascolto di diversi lettori del blog c'è questo desiderio nato di distaccarsi dai servizi Google servizi che diciamocelo sono tutti quanti incentrati sul spionaggio da parte degli utenti Google sa tutto di noi noi siamo troppo dipendenti dai servizi Google sfido chiunque a dire non ho una Gmail perché la maggior parte delle persone hanno una Gmail per un smartphone Android vi trovate l'account per l'account di YouTube utilizzate Google Photo utilizzate Google Drive quindi siete chiusi in questo recinto siamo tutti quanti anzi perché anche io utilizzo i servizi Google per alcune cose quindi siamo tutti chiusi in questo recinto bello bello dorato con servizi tra virgolette gratuiti che poi gratuiti non sono perché Google utilizza i nostri dati utilizzare i nostri dati anche per esempio ha utilizzato i dati per delle mail che noi scriviamo per poter addestrare il suo correttore automatico visto quello che ti fa anche la previsione delle parole sa tutto di noi perché può scansionare le foto può scansionare sa le ricerche sa che cosa cerchiamo su internet e ci mostra le conseguenze le pubblicità per ogni cosa abbinate quindi si ci dà dei servizi comodi perché maps perché foto perché gmail e quant'altro però sono dei servizi che ci ci spiano in continuazione dai non giriamoci attorno direte voi io non ho nulla da nascondere perché perché farmi un problema di questo tipo non è vero perché tutti abbiamo qualcosa da poter da voler nascondere poi comunque anche se fosse perché dobbiamo utilizzare dei servizi che hanno questo scopo di funzionamento hanno questa questa modalità di funzionamento utilizziamo linux siamo tutti quanti utenti linux all'ascolto quindi siamo già utenti che sono più attenti alla privacy non vogliamo tutte quelle porcheri ad esempio che abbiamo su windows che ci spiano in continuazione pubblicità all'interno del menu start di windows adesso con l'introduzione della funzione di copilot quella che vi fa in screenshot della funzione recall e quant'altro cioè noi siamo utenti i utenti linux sono utenti più attenti alla privacy molti di noi sono utenti anche firefox non utilizzano google come motore di ricerca quindi perché non cercare di capire se ci possiamo distaccare completamente dai servizi google e quello che sto cercando di fare nelle prossime settimane spero di pubblicare un articolo omnicomprensivo che vi spiega quali sono le alternative per me quali sono le alternative per i motori di ricerca ovviamente per i browser per i cloud per le foto per i cloud per i nostri dati e quant'altro e spero che sia un articolo per voi interessante anzi magari lasciatemi un commento se siete interessati a questo e se avete anche dei suggerimenti iniziateli a scrivere in modo tale che da potermi aiutare anche per cercare dei servizi alternativi oltre ai soliti che sappiamo che utilizziamo anche molti di voi utilizzano come protonmail tuta nota per email oppure image per quanto riguarda per quanto riguarda la gestione del salvataggio in cloud delle foto e quant'altro quindi lasciate un commento perché poi le prossime settimane vedremo un articolo sulle pagine dei blog è anche un video che vi spiega un po' com'è la situazione tutto questo fatto perché mi ho appoggiato a prono che proton è uno dei servizi più consigliati per chi si vuole distaccare dal mondo di google e vabbè e ultima ultima notizia di questa settimana ultima notizia di questa puntata riguarda la nuova non recensione che ho pubblicato sabato riguardante ufficio 0 linux che è una distribuzione italiana basata basata su diverse distribuzioni perché abbiamo quella versione basata su linux mint e debian edition abbiamo versioni basate anche su altri su altri list quindi attualmente gli sviluppatori di questa distribuzione non hanno ancora deciso quale base utilizzare per il futuro stanno un po' lavorando stanno un po' cercando di capire un progetto giovane ha 4 anni di vita è un progetto una distribuzione che è interessante perché è rivolta a tutti quanti liberi professionisti ed offre una serie di strumenti per far funzionare out of the box stampanti scanner firma digitale applicazioni per il processo civile telematico e chi più ne ha più ne mette quindi tutto quello che è il settore del libero professionista italiano che si trova a dover dialogare con la pubblica amministrazione lavorare e quant'altro fatemi sapere che cosa ne pensate di questa distribuzione lasciate un commento sul canale youtube ecco questa ultima notizia si conclude qui questa 184esima puntata del podcast di marco's box io come sempre vi invito a iscrivervi numerosi sui vari social mi trovate su facebook x mi trovate su youtube mi trovate sui principali piattaforme di podcasting mi trovate su winkly mi trovate su mastodon e mi trovate soprattutto su telegram dove troviamo un canale dedicato alle notizie che potete utilizzare a modo di feed reader se non vi piacciono i feed reader ma se vi piacciono i feed reader sappiate che se andate giù nelle pagine del blog trovate anche i feed quindi io continuo a mantenere il feed rss anche se ho visto che molti siti l'hanno abbandonato trovate poi un canale telegram dedicato alla community di marco's box dove si parla di tutto non soltanto di linux e infine trovate un canale telegram dedicato alle offerte amazon che potete utilizzare per supportare il blog acquistando da uno dei link affiliazione inoltre vi ricordo che potete supportare il blog anche acquistando o rinnovando la vostra vpn su nordvpn qui trovate il link sulle pagine del blog per poter avere il codice referral di marco's box infine vi ricordo questa non è una promozione infine questa è quest'ultima parte perché non ci guadagno niente vi ricordo che fino alla fine del mese di giugno è attivo uno sconto per tutti quanti i lettori di marco's box intenzionati ad acquistare un computer ricondizionato da reuar trovate l'articolo dedicato sulle pagine del blog vi spiego chi è reuar vi spiego perché è buono acquistare computer ricondizionati da loro e trovate poi il codice sconto da applicare per acquistare un computer da loro so già che alcuni di voi l'hanno già fatto hanno già acquistato computer quindi affrettatevi prima che finiscono i codici sconto messi a disposizione da reuar e con questo è tutto lunga vita e prosperità a tutti quanti ci rivediamo ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di marco's box ciao ciao ciao